I'm here, I'm here Eccoci qua ragazzi con Moustakion e Caniz, siamo allo suo tavolo, cerchiamo di chiedergli due informazioni, Moustakion come stiamo andando? Ho perso adesso un grosso pozzo però sono sopra me Riesci a raccontarci la mano velocemente? Allora, Moustakion di sto ragazzo, guarda il piccolo buio e io aggiungo, aggiungo Scende donna 8-7, cerchiamo per 3, turn casca un 9 Lui cecca, io ci betto 7-5, porta all'originale iphone, lui mi tribetta 19 Io c'ho dama 6, quindi c'ho bilaterale e metto player, decido di chiamare Il leader è Bianco, lui in betta, faglio betta, io pado E lui è assettato E lui aveva assettato il gioco Va bene Moustakion, noi ti facciamo l'in bocca al lupo per il proseguo del torneo, comunque sei ancora in average Sì, speriamo In bocca al lupo Saluto Ecco, avete sentito la mano anche raccontata da Moustakha Kanit Abbiamo scoperto che cosa aveva nella mano che forse avete letto dal forum in via testuale Quindi donna 6 per Moustak Intanto andiamo anche a inquadrare il tabellone, siamo a 10-13 minuti della pausa Vediamo 1.200 i bui con l'ante a 200, 221 giocatori ancora in gioco e lo stag medio che inizia invece a salire abbondantemente Siamo in questo momento a 115.100 Molti giocatori ancora in gara quindi, molti big tra i tavoli, abbiamo ancora Livorey, Daniel Negreanu, Phil Ivey, Chris Moneymaker Insomma, veramente un ottimo field Per quanto riguarda gli italiani, sempre in gara Cecchi, sempre in gara come avete visto Mustafa Kanit Insomma, anche per gli italiani possiamo dire una buona prova Vedete anche sullo sfondo, cerchiamo di andarne ad inquadrare, Max Pescatori Lo dovreste intravedere anche se è un po' nascosto vista tutta la gente che è presente in sala Noi ci diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti video Vi ricordo velocemente che i bui dal prossimo livello andranno a 1.200-2.400 con le ante a 200 Ve lo inquadro anche, ci vediamo ai prossimi aggiornamenti video Per ora un saluto a tutti e buon poker Ciao a tutti